A seguito di numerose segnalazioni ricevute tramite email, l'assessore comunale di Agrigento alle attività produttive alla polizia locale Carmelo Cantone interviene nel merito del Circo Orfei allestito al villaggio Mosè e afferma, promesso che il comune di Agrigento ha un'aria già predisposta da anni per lo svolgimento degli spettacoli viaggianti nella frazione di Villa Seta, debita distanza da tutte le abitazioni. Il Circo Orfei di Martini Daris Leone non ha presentato alcuna scia di autorizzazione suolo pubblico all'amministrazione. Il Circo insiste infatti su aria privata a seguito di comodato d'uso con il proprietario dell'area. Si precisa che le attività circensi sono normate dalla legge 337 del 18 marzo 1968. Trattasi quindi di suolo privato dato incomodato d'uso. Trattasi inoltre di attività temporanea. Tutte le norme igienico-sanitarie, compreso il controllo degli animali e di competenza dell'azienda sanitaria, che per il benessere degli animali effettuerà da subito i controlli. In caso di mancato rispetto delle norme, l'azienda sanitaria proporrà al sindaco di emettere ordinanze in merito. Il comune ha già rilasciato l'autorizzazione acustica, avendo riscontrato la documentazione conforme alla normativa. Nel caso in cui si dovessero verificare disturbi alla quiete pubblica, la verifica sarà effettuata dall'ARPA.